La definitiva riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato in Alta Valle non è ancora stata decisa. Sembra infatti che i tentativi degli amministratori locali nel mantenere un comando stazione nella zona dell'Alto Piano abbiano ancora qualche speranza. In estate si era diffusa la notizia di un'ormai certa aggregazione del comando stazione di Clusone con quello di Gromo, concentrando uomini e mezzi nella sede del paese dell'Alta Valle. Sono stati poi convocati incontri per chiarire la situazione. Gli uomini della Forestale sono stati precisi nello spiegare agli amministratori la situazione, affermando che per eliminare il costo di affitto della sede di Clusone era stato deciso di aggregare Clusone a Gromo, ma consigliando anche una via per evitare il peggio, ovvero provare a mettere a disposizione locali senza far spendere troppo allo Stato. L'amministrazione di Castiglione della Presonana si è subito fatta avanti, dichiarando la propria disponibilità nell'individuazione degli spazi. Nei giorni scorsi è stata perfezionata la volontà mettendola nero su bianco su un atto di giunta, documento fondamentale per mettere in moto le pratiche. L'amministrazione di Clusone nel frattempo si è mossa per chiedere l'intervento dei parlamentari bergamaschi, i quali hanno sottoposto la questione ai vertici del corpo direttamente a Roma. Sembra quindi che ci siano buoni presupposti per riaprire una stazione a Castione, ma l'ufficialità è comunque attesa entro dicembre.